Eeeh Hola gente, io sono Lilith e oggi siamo alla Tattoo Convention di Torino insieme a Elena e niente, stiamo per entrare e sono molto emozionata, molto felice e speriamo di trovare un lavoro e tanti gnocchi e niente eeeh ci hanno dato un bellissimo dépliant con la mappa c'è la mappa eeeh io vedo già un sacco di gnocchi e sono felice eeeh secondo un po' tra i primi eeeh mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm io da becca noi da me qua insomma ci denuncerò andiamo eeeh eeeh dobbiamo trovare gli scatti allora abbiamo incontrato il primo tatuatore con il quale ho degli agganci e dopo vi farò vedere i miei disegni vi farò sapere cosa mi dirà ciocchi loschi ciocchi loschi c'è una buona probabilità ed è vicino anche a casa quindi ci sta eeeh 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 Siamo tornati a casa, lina Siamo anche morte Non ci facciamo più Corri Corri, c'è Sara che corre Sara sappi che questo finirà su YouTube Come finirà su YouTube? Eeeh, ciao Sara E allora sono Giamelle Se non si fosse arrivato Stavo sgarsando Il video non è finito E stiamo prendendo l'acqua 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 E ce ne hai messi i soldi Eeeh, se non ci metti i soldi E facciamo una naturale Quanti soldi abbiamo? 5 centesimi E' boh, e' boh E' boh, siamo ricche Ricchissime Fresh Fresh come la piazza di Cavagnolo City E' fresh Cos'è che è fresh? L'acqua ghiacciata sulle Dita No, che Dita Oddio fa E niente Addio Di sti cazzi Di sti cazzi E ci sarà un bip nella frase che ho appena pronunciato Di sti cazzi Sti cazzi Eeeh, ciao E va bene Eeeh, ciao Eeeh 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 Eeeh